Io sono Vittoria e ho 13 anni. Io sono Carola, ho 11 anni. Durante la quarantena abbiamo deciso di provare a palleggiare da un terrazzo all'altro. Ma non pensavamo che questo video potesse avere così tanto successo. Il mio giocatore preferito è Federer perché mi piace molto come sta in campo, è sempre concentrato. Se incontrassi Federer o gli salterei tipo addosso oppure rimarrei un po' imbambolata. Sì, però per chiedere gli autografi a Federer devi fare il segno. Tu non sai parlare lo svizzero. Se dovessi prendere ad esempio un colpo da Roger, credo che prenderei il suo rovescio. Vorrei avere l'eleganza di Federer nel gioco, però la forza di Nadal. Sì che Nadal e Federer sono due nemici comunque. Sì però hanno anche un'amicizia tra loro, tutte le volte che si sono giocati contro. Ciao Carola già Vittoria, come stai? Non ci possiamo prendere! C'è Federer sul nostro terrazzo. Shall we play it or no? Gioca a tennis con noi. C'è incredibile. Io svengo. No, no! C'è Federer sul nostro terrazzo! Quello forte! Sì! Ragazzi, questa qua è la rachetta di Federer. E questo è Federer! Stiamo andando a giocare con Federer, me lo giuro. Non ci credo! Shall we have some fun? Ready to play? Yeah? Here we go! Amazing here on the rooftop. Usate! Into the macchina. Shall we grab some lunch? Adesso stiamo per andare a mangiare con lui a pranzo. Per me, questo è stato un momento molto speciale nella mia carriera come giocatore di tennis, per sorprendere i fan o i figli come ho potuto fare con Carola e Vittorio oggi. Grazie. Buon appetito. Grazie a tutti. E ho giocato in molti paesi all'interno del mondo ma questo è sicuramente per me, come un'esperienza speciale ciò che possiamo giocare in ogni parte e giocare con l'interno quindi ho avuto il miglior momento, sinceramente. Ve lo giuro, è vero, non è un manichino, giuriamo. Non è un manichino. Ciao Carola e Vittoria, è Roger qui e le sorprendere non è ancora più pronto. Io ho capito di avere un buon camp di giocatore che è perfetto per voi due ragazzi. E ho parlato alla Rafa Nadal Academy e Beryl e io vorrei sentireci a te qui. Quindi, semmi faccio? Enjoy it, ciao!